Martedì 27 febbraio, bentornati in diretta su Rai News 24. Andiamo anche in Puglia e Basilicata, altra regione presto al voto, con il mattino la quaresima di Giorgia e la titolo, lo spirito affranto con cui governa l'Italia, non amo stare dove sono queste le parole, gli scherzi, insomma Giorgio Meloni questa sera ha scherzato alla stampa estera.